Dopo il primo annuncio del film, che risale alla scorsa estate, sono state pubblicate le prime immagini di The Walking Liberty, il nuovo film che Alessandro Rack ha diretto con la casa di produzione napoletana Mad Entertainment, lo studio di animazione dove sono nati piccoli capolavori come l'arte della felicità e la gatta cenerentola. The Walking Liberty nasce come riflessione sulla situazione politica attuale e sull'ascesa dei nuovi sovranismi in Europa e in America. Il film mette al centro l'uomo bestia, nel suo stato più selvaggio e primitivo, esplorando il concetto di umanità in senso trasversale e atemporale. I protagonisti si chiamano Yaya, una ragazza di 15 anni che ha elementi del protagonista del marinaio di Hugo Pratt, cortomaltese, anche se in un'incarnazione femminile, e un gigante malato di mente di nome Lenny, che è il doppio della sua età. I due vivranno una serie di avventure in una giungla post-apocalittica, con un'ambientazione che ricorda Mad Max. Sono entrambi innocenti e senza genitori, ha detto Rack, il quale ha specificato che la narrazione non chiarisce mai quali siano le origini della distruzione del mondo. L'idea è di raccontare la storia di due persone che sono nate in un nuovo mondo e non hanno una connessione diretta con la storia. Sarà il primo film di Mad Entertainment a essere realizzato interamente in 3D, comprese le scenografie che precedentemente venivano invece dipinte. The Walking Liberty dovrebbe uscire nel 2021.